Quanto pesa questa medaglia, considerato tutto quello che è successo nell'avvicinamento? Un bel po', considerando non solo i cinque anni che ho aspettato, ma anche quello che è successo. Due settimane fa poco più mi è presa una gastroenterite che mi è durata due giorni, mi sono portata degli strascichi per quasi una settimana, quindi ho dovuto posticipare la partenza, dovevo partire il 12 luglio, sono partita cinque giorni dopo e questo mi ha destabilizzato un po', ho avuto un po' di paura di non riuscire ad arrivare nella giusta forma, avevo perso qualche chilo, avevo poche forze e poi fortunatamente avvicinandomi alle gare ho ripreso bene le forze, forse nel 1500 si è un po' visto che ero stanca dopo metà gara, però negli 800 non doveva capitare quello che era successo nel 1500. Non mi aspettavo così le Olimpiadi, nel senso che sono una gara un po' diversa dalle altre, però è arrivato questo bronzo e va benissimo così. C'è sempre Parigi per rifarsi? Sì, certo, per rifarsi il 1500 sicuramente, speriamo, da qui a tre anni è lungo ancora, però ovvio che l'obiettivo è quello.